buongiorno e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del libro un corso in miracoli oggi sono in una location differente dal posto in cui registro di solito e ho un ospite speciale qui con me leone nel portavebè ho deciso di registrare questo episodio così con quello che c'è così com'è senza pretese e nella totale verità di quello che c'è predisponiamoci all'ascolto di questa nuova lezione numero 8 ascoltiamo i suoni intorno a noi l'aria del nostro respiro che entra ed esce ispirando pace ed espirando qualsiasi tensione con la quale siamo arrivati qui ora in questo momento sentiamo il gusto dentro la nostra bocca l'aria che entra e l'aria che esce e ci connettiamo a quel posto in cui niente può essere minacciato niente è in pericolo e dove sta la nostra vera forza lezione numero 8 la mia mente è preoccupata da pensieri del passato questa idea ovviamente è la ragione per cui vedi solo il passato nessuno in realtà vede qualcosa ognuno vede solo i propri pensieri proiettati all'esterno la preoccupazione della mente riguardo al passato è la causa dell'errata concezione del tempo di cui soffre il tuo modo di vedere la tua mente non può cogliere il presente che è l'unico momento che c'è quindi non può comprendere il tempo e non può di fatto comprendere nulla l'unico pensiero totalmente vero che si può mantenere sul passato è che non è qui pensare adesso è quindi pensare a delle illusioni pochissimi si sono resi conto di cosa implichi veramente raffigurare il passato o prevedere il futuro la mente è veramente vuota quando fa questo perché in realtà non sta pensando a niente lo scopo degli esercizi per oggi è di iniziare ad allenare la tua mente a riconoscere quando in realtà non sta affatto pensando finché la tua mente è preoccupata per idee sconsiderate la verità è bloccata il primo passo nell'aprire la strada alla visione consiste nel riconoscere che la tua mente era semplicemente vuota anziché credere che fosse piena di idee concrete gli esercizi per oggi devono essere fatti ad occhi chiusi questo perché davvero tu non puoi vedere nulla e ti è più facile riconoscere che per quanto vividamente tu possa raffigurarti un pensiero tu non stai vedendo niente con il minore investimento possibile passa in rassegna i pensieri che si trovano nella tua mente per il solito minuto circa osservando semplicemente i pensieri che vi ci trovi identifica ciascuno di essi secondo la figura o il tema centrale che contiene e poi passa successivo inizia i periodi di pratica dicendo sembra che io stia pensando a tal cosa poi identifica specificatamente ogni tuo pensiero per esempio sembra che io stia pensando a nome di una persona a nome di un oggetto a nome di un'emozione e così via concludendo alla fine del periodo di ricerca mentale con ma la mia mente è preoccupata da pensieri del passato quindi sembra che io stia pensando a una persona a un oggetto a un'emozione ma la mia mente è preoccupata da pensieri del passato questo può essere fatto quattro o cinque volte durante la giornata a meno che non lo trovi irritante se così fosse tre o quattro volte saranno sufficienti può esserti utile comunque includere la tua irritazione o qualsiasi emozione che l'idea di oggi possa causare nel processo stesso di ricerca mentale oggi concludo qui ho leone appiccicato alla pancia che si è addormentato durante la lettura ti invito a seguire il podcast per ricevere gli aggiornamenti sugli episodi e farmi sapere che ci sei ti ricordo anche che c'è una pagina instagram dove potrai trovare giorno per giorno le lezioni scritte e ti saluto da qui da questo spazio di pace che si è creato partendo da un desiderio ci vediamo qui domani con la lezione numero 9 grazie 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 grazie